Poco dopo le 18.30 di lunedì 7 agosto, un incidente, il successivo incendio di un furgone in coda non coinvolto nello schiatto, ha provocato fino a 6 km di code in A4 in direzione di Trieste. Incidente che è stato provocato da un'auto finita contro la barriera di sicurezza in corsia di sorpasso, che ha poi coinvolto altri due veicoli leggeri, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone a bordo. Nella coda che si è formata subito dopo un furgone fermo a causa del probabile sul riscaldamento del motore, è stato costretto ad accostare in corsia d'emergenza prendendo fuoco poco dopo, anche in questo caso, nessuna conseguenza per le persone. Sul posto vigili del fuoco, Polizia Stradale di Venezia e gli ausiliari della viabilità di concessione autostradali venete, coordinati dal centro operativo di Mestre, che ha disposto la chiusura temporanea della carreggiata a causa del rogo. E a proposito di incidenti, ma nello specifico a Verona, è stato presentato il bilancio del primo semestre relativo agli incidenti e le azioni messe in campo dall'amministrazione per aumentare in modo significativo la sicurezza stradale. Sono immagini davvero surreali, quelle che ogni giorno le telecamere di videosorveglianza presenti su tutto il territorio comunale riprendono in tema di incidenti. Mancate precedenze, attraversamenti con il semaforo rosso, investimenti di pedoni e ciclisti, danneggiamento della segnaletica stradale, manovre pericolose per sé e per gli altri. Nel periodo gennaio-giugno 2023, gli incidenti a Verona sono aumentati del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Principali cause, l'eccesso di velocità e la distrazione causata soprattutto dall'uso del cellulare. In aumento i sinistri che coinvolgono gli utenti cosiddetti deboli della strada, ovvero pedoni e ciclisti, stabile invece il numero dei decessi. L'amministrazione comunale sta attivando una serie di interventi su diversi fronti come restrizione di carreggiata, la creazione di golfi sparti traffico, isole pedonali e la giunta di dossi. Un'altra azione interverrà a livello coercitivo con la presenza di autovelox da installare nelle strade con più alta concentrazione di sinistri. A breve partirà inoltre una campagna di sensibilizzazione focalizzata sulla sicurezza dei pedoni. A questo si aggiunge infine l'imminente unificazione della centrale operativa del settore traffico del Comune con quella della Polizia Locale, che consentirà la messa a sistema della strumentazione in dotazione per una maggiore efficienza della videosorveglianza, che oltre al controllo in tempo reale garantisce l'uso delle immagini a posteriori, fondamentale per determinare la dinamica degli incidenti. Grazie. 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 Grazie.